Di che cosa stiamo facendo? Sono fatte delle presentazioni su PUC Evidente Non ci ha domandato di niente L'argomento non vi chiederemo Adore di continuare a fare Consigliere comunale Perché su PUC non c'è stata una faccetta Se non immaginare Attraverso il video del PUC A consentire un ulteriore Della stazione del vostro dettore Ed è stato dimostrato In maniera già E aggiungo Caro politico Tu pensi di no La norma giusta La norma giusta Oggi Una norma giusta Il governo di centro-destra Della regione Cattà Ha fatto una buona norma Oltre a parte In altri PC Aggiungo Abbiamo cercato di venire in un'altra posizione Ci hai detto Siccome non riusciremo a fare Quello che la precedente amministrazione Un'altra parte in tre anni Riusciremo a fare In trenta giorni Ti è stato risposto Adesso In trenta giorni non faremo Però significa Sì da oggi Di stare in un consiglio comunale Con all'ordine del giorno A trentesimo giorno Perché O saremo bravissimi Come tu dici A fare trentesimo giorno Quello che non siete riusciti a fare In tre anni O saremo bravissimi O altrimenti a trentesimo giorno C'è il consiglio comunale Consiglio Avremo sicuramente di rompo Perché è un problema di registrazione Allora Allora E poi E poi E poi E poi E poi Mi è stato risposto Di approvare un piano perché dopo l'intervento legittimo del Consiglio di Balsamo, voglio dire che la strada era chiara, perché siamo delle persone ferme, evidente, che rispetto a quell'intervento non c'è altra strada, così come già le commissioni dalle pubbliche che andassero a casa, perché se la ragionanza che sta tenendo dai cittadini non riesce ad andare a fare, perché una forza politica, legittimamente, per le sue giuste considerazioni, ma da parte è chiaro che non si va in Consiglio Comunale di volta in volta o si stinco gli atti, è naturale che si va a casa e si sottopone l'equalmente e nuovamente al giudizio degli elettori, perché probabilmente l'errore che ha fatto fin dall'intervento della Peralta, che probabilmente avrebbe mostrato un pubblicatore a una città come quella di Polonia, che ha iniziato un buon Consiglio Comunale, che era riconosciuto dal popolo, e che è rubato troppo in scelta la situazione che era esattiva. Noi non siamo disponibili a fare una cosa del genere, al di là della valutazione sui motivi che eventualmente possono portare allo scegliamento del Consiglio Comunale, ma una cosa eccetera, o sarà tutti quanti insieme condividendo programmi e atti in Consiglio Comunale, forse vuol dire che non siamo nati per stare insieme. So, grazie. Grazie a tutti.